Una ricerca per indagare sul rapporto tra donne e sport, coordinata da ICS in collaborazione con altri tre enti di promozione sportiva e finanziata da Sport e Salute. Jump the Gap, condotta in collaborazione con l'Università di Padova, è stata presentata a Roma nella sala stampa dello Stadio Olimpico e ha messo in evidenza come esista ancora una visione pesantemente stereotipata del mondo femminile nell'ambito sportivo. 4.600 interviste effettuate tra fine 2020 e inizio 2021, 2.800 delle quali a donne, il resto uomini, un campione variegato che ha riguardato persone dagli 11 anni in su. Sono inoltre state analizzate 12.000 forme lessicali sui media, sia sportivi sia generalisti. Soltanto il 33% delle donne partecipa alla vita sportiva rispetto alla globalità degli sportivi praticanti, è probabilmente questo il dato che più allarma. Donna percepita come custode della gestione del nucleo familiare, tanto che una su tre indica gli impegni familiari tra le prime tre cause di abbandono della pratica sportiva. Non solo, il 48% degli intervistati ritiene lo sport tra i tre elementi più importanti nella vita di una donna, ma prevalentemente per motivi inerenti alla salute e non alla socialità. Il divario di genere, insomma, sembra una piaga dal cui il mondo dello sport non è immune, tutt'altro, e Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, è consapevole che il quadro generale va migliorato. Promuoviamo anche il diritto allo sport, che non è ancora un diritto esercitato in modo adeguato, in particolare dalle donne. Di fatto una donna su tre fa sport nel nostro paese, questo è un divario che noi assolutamente dobbiamo colmare. Quindi Sport e Salute non si limita a finanziare questa ricerca, ma anche partecipa attivamente alla stessa, perché l'obiettivo è quello di diffondere la pratica sportiva e le donne sono fondamentali in questo ambito. Bruno Molea, presidente nazionale di AICS, indica i due principali step da intraprendere. Uno immediato, che è quello che abbiamo presentato oggi, è che vedi quattro enti, la ICS, quindi l'Axi, la Libertas e l'Axene, uniti in un tentativo di canalizzare risorse, che già sono in possesso dell'ente, appunto nella direzione di un maggiore coinvolgimento delle donne in mondo sport. Un secondo, molto più importante, che richiede però, è chiaramente finanziamenti ulteriori, che non sono in possesso degli enti, quindi è un progetto più a lungo termine, che vede, è proprio l'azione pressante di cambio culturale. Il target di lungo termine per il presidente dell'ente di promozione sportiva con 10.000 associazioni affiliate è chiaro. Contribuire a un cambio culturale, generazionale, che permetta appunto di vedere la donna più presente nel mondo dello sport, più partecipe, soprattutto anche nell'attività sportiva di base, perché è lì che noi vogliamo incidere.